bravo twitch bravo vedi che mi ascolta twitch とろとろとろとろっとー tu 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 scogna sei un pisello ah quasi sono venuto a dirti che sei un pisello guarda un attimo prova prova ok a posto funziona disco e niente sentiamo suori sirius ragazzi tranquilli per i cyber zombie tutto a posto sono riuscito ad entrare dovevi solo reinstallare vero no ho riavviato è riavviato il computer il computer certo che windows 11 è proprio una merda se posso dire si sia bene tranquillo tanto comunque wolverine andata in un posto ha portato un sacco di cibo poi in più giocento e passa piatti pronti tranquilli sul cibo ormai da dato master master chef e dai ci sentiamo sul server ma io non so quanto ci so tranquillo tranquillo lo so lo so tu fai sempre come cazzo si leva lei non riuscivo a uscire da disco allora molti giocatore ragazzi è arrivato il momento ragazzi è arrivato il momento è arrivato è arrivato la rotina è arrivato la rotina mi ho messo il nuovo server aspetta vorrei evitare di farlo vedere il mondo prima di tutto teoricamente si è certo che si ti prego vai prima fase andata ok ah è già caricato minchia è stato velocissimo ma come aspettavo ma si vede che la siri sono pesa un cazzo per una stasera allora arriviamo vai vai tranquillo sto un attimo vedendo come si comportano entrambi i server ma ma ti giuro non consumo un cazzo secondo te è come avere il mio processore di 5 volte più potente oh eh siamo estate porca puttana inizia il caldo in estate almeno un po' di su e basta sta pioggia e basta basta questa pioggia e basta e basta sta pioggia devo fare riparare la mia armatura ragazzi è in fase riparazioni ecco oddio meno male che ho preso del ghiaccio beh teoricamente secondo me in estate è meno sofferente se sono sincero dell'inverno ciao capo ma come ti sento ma ti sento comunque molto meglio sai scogna rispetto al primo e scogna fa i pompini ho detto sei attento alla gola la gola è sempre amato cosa ciao bro ciao xara come va signorina ma ultimamente non ti vedo in live ma perché forse ci stiamo sbagliando tardi io non la vedo proprio in live ultimamente ma che ogni tanto apro le live non ti vedo in live ultimamente o perché sono stato io molto preso per i server e ci sono stato alla testa ah ecco allora posso ok ti giuro per un momento pensavo fossi stato fossi io che ho detto mi sa che ho un po' agnonato xara perché comunque abbiamo avuto molto da fare con i server ho cambiato il computer adesso abbiamo un computer proprio dedicato quindi stavamo oh quanta gente sta entrando qua deve iniziare a scrivere nomi qua eh comunque posso essere sincero ha rotto il cazzo di coglioni sta zona qua degli fps ti giuro è bassissimo gli fps non so che cazzo è secondo me la mappa no è un po' sì capito cosa hai preso GESOTI bravo bravo scogna andiamo a prendere il foglio no 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 ho detto che ho preso il foglio è preso del prezzo ah e che cazzo avevo capito che non so tu hai detto ho preso i tre stack ma come tre stack aspetta ma ah ecco dicevo io non mi trovavo con i conti aspetta fammi resettare un attimo i fogli e firmiamolo ancora ma i tre stack che cazzo ma va bene non ho capito non ho capito tasse da pagare turi per 2 che è uscito senza pagare le tasse multe da pagare sempre prendi allora dobbiamo pagare le tasse sammichi 12 hai detto che non arrendo tu già vuoi pagare? eh inizia a pagare secondo me è meglio 110 sì immagino che dietro te esce a chubek anche giusto? yes eh infatti subito riconosciuto aspetta un attimo signorini starpix perché non so se viene l'altro clown a posto signorina dai pagate così togliete subito il prezzo comunque siamo in estate quindi ah meno male adesso mi tolgo il vestito ora l'altro giorno mi hanno detto che sembravo la nonna sembravo il lupo di cappuccetto rosso perché con la pelliccia e col vestitino sembravo il lupo di cappuccetto rosso e beh effettivamente ha anche senso se posso dire quello che hanno detto allora intanto intanto come procedono i lavori signorina? eh bene 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 allora ieri mi sono scritta con chi vi usa che voleva una nuova struttura si aveva scritto il 25 ma aveva scritto il 24 e io ho detto eh ma ero via e fa eh non so se vuoi chiedo a qualcun altro ho detto vabbè posso bloccare un attimo le strade e per una volta faccio ah beh sì scogno va bene per te se blocchiamo un attimo le strade per tua moglie visto che ha bisogno del lavoro ah sì se hai portato per te sì sì è portatissimo va bene dai allora aspetta che ritorna e inizi va bene dai te lo concedo quando entro io intanto faccio le strade poi quando entra sì sì intanto vieni qua che ti do l'altro pagamento aspetta ho prendo la chiave eh sì poi se riesci a dirmi a quanti siamo allora io ti dico signor eh mica me lo ricordo allora signorina dalla prossima volta essendo che è passata la legge e contratto stato e lavoratore ovviamente nella prossima volta ci saranno i tempi così contiamo quante paga hai avuto quante spese hai fatto e quanto ti diamo di aggiuntiva di costi perché ovviamente ora è un po' più legale la cosa nel mondo del lavoro stiamo cercando e allora ieri se vuole ho fatto il conto se vuole ieri potrei anche già dire quanto dovrebbe essere tieni intanto vabbè non è quello il problema dico dai prossimi contratti questi qua è come se non esistessero dica ah le tasse ragione storti immaginavo ah dai tranquillo tranquillo tanto nella cassa poi si sistemano perché si uniscono insieme a quelli storti si tranquilli ragazzi voi live tranquilli vi aspettiamo siamo sempre qui non vi preoccupare anzi meglio se entrate piano piano perché mi esaurisco di meno così pago una alla volta le tasse non divento scemo allora voi avete pagato le tasse quindi siete tutti e due a posto va bene ok signorina c'è nessun problema per la struttura intanto faccio le strade poi quando arrivo appena arriva fai la struttura no le strade allora ho fatto il calcolo che dovrebbero essere 12 stack e mezzo ok cioè vediamo poi se aggiungono altri materiali però in teoria vai continui continui io mi pago un attimo stipendio in teoria sono 12 stack e mezzo ok va bene io non so quante volte mi ha pagato quindi non so se siamo già allora sono sicuro che ti ho pagato adesso e l'altra settimana tu ci sei quattro volte ti ho pagato quindi quattro volte quindi siamo a quattro stack ah no quattro quattro sì due due fa quattro eh volevo dire due settimane ho sbagliato ho detto quattro settimane volevo dire intendere nel senso che sono passati quattro giorni da quando abbiamo fatto la cosa cioè quattro sessioni vabbè comunque il pagamento finale non ti preoccupare perché faremo un bel regalo per il lavoro intanto lei finisca nessun problema allora tasse da pagare prendo un attimo metto levo un attimo nati e me tu cosa dovevi fare aspetta mi sono dimenticato che dovevamo fare scogna tu hai pagato le tasse si togliti un attimo ah hai ragione hai ragione ragazzi hai ragione un po' la vecchiaia si fa sentire in questo periodo si deve prendere tutte allora intanto pago un attimo il mio stipendio è quello di nati che guadagniamo veramente tanti soldi e mica mi dispiace allora 60, 190 nati paga io pago 25, 25, 60 pagato nati paga 25, 35, 40, 55, 60 a posto questi sono i soldi rimasti queste sono le frecce giusto? allora ah che ti devo 5 il pagamento più le tasse sono 85 io prendo 90 aspe ah human allora prima di tutto c'è lui davanti mi sciocca niente insieme barone vai a chi sto fuori ah no il barone grazie allora chi sto venendo? che è? che è? che è? non trovo niente cacciatore tre una sessione pagata le devo 85 giusto? confermi che il pagamento era giusto? anche se mi dice no so che è giusto quindi 60 ecco qui signorina ecco le frecce pagate siamo ok ho già scritto che lei una sessione l'ha avuto ora ora fatemi un attimo sistema lo zaino che ne sono uno io 1 2 3 4 5 appos eh ma scusa scusa grazie mille pago datemi un attimo due secondi posso i miei soldi se no ho i miei soldi addosso 1 e 2 allora ora possiamo lavorare ah chi è che è entrato adesso nel server ragazzi? nome e cognome io Giotto Martina e Panzer ok solo voi due devo scrivere allora devo cancellare no non devo cancellare si vabbè cancello vertiver starpix e scrivo Panzer lavoro Panzer barone quasi mi ricordo Panzer lavoro se vuoi pagare già le tasse paga tu che è più facile tu non lavori con noi con il comune quindi tu hai qua le proprietà che hai da noi sono una casa gli animali sono 35 45 e 50 quanti cosi hai l'euro di staccionata? 5 5 quindi quanti ci paga 5 e quanto mi fa fa? allora 5 per 15 15 non è più 25 le stalle si pagano 15 ogni stalla vabbè frate sono 75 110 più la stalla e 125 si hai ragione hai ragione 125 quindi tu già hai pagato le tasse Dani è inutile che ti schiocchi mo paghiamo tutto devo scrivere il nome di Amrakan è sicuramente Master Tirana ok fatto ragazzi puoi buttarmi i soldi a posto sei a posto fra fra asper ma mi hai dato più soldi si 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 investo ah ok ma è comune asper i cavalli del comune fra ciò guarda pure onesto sono no no è vero onesto onestissimo questo mi hai già ricordati qual'è il problema ma che stai parlando chi lo ha dato sai qual'è il problema sai qual'è il problema eh guarda sono morti i cavalli eh ma hai comprati ora? no non sa niente ah beh comunque una cosa Daniel tu che devi avere ma che hai fatto le hai rotti solo? ah ma sei in cratia è un po' di lo cazzo grazie mille ti devo pagare lo stipendio quindi scrivi gli 8 69 stipendio giusto? eh te lo abbiamo qua devo scrivere il nome di gli 8 69 più Panzer ok ci troviamo giusto? sì io ma quanto le tue quanto le tue quanto le tue allora con calma respira tranquillo sei calmo tu devi avere il 90 ma di questi 90 devi pagare l'attività 25 che hai il negozio giusto? un altro terreno che sta essendo costruito quindi devi pagare 50 praticamente ok quindi mi pare che tutte le proprietà sono quelle sì perché il resto devi pagare dall'altro tieni ciao signorina sì sì ti sentiamo come stai? sì ok un attimo solo ragazzi due secondi pagato stipendio ok adesso tocca a te dintach te lo faccio io che ora sono qui ti posso aiutare dintach tasse pagate più stipendio tu non hai niente come proprietà giusto? no sì che hai proprietà tu prendi 90 però devi pagarmi di questi 90 se mi non mi duele il pensiero 25 l'attività giusto però non ho la vita cioè non non hai? non ho capito non vedo non ho messo niente in venta né ancora non hai preso il terreno proprio? ho preso il terreno però non vedo eh dico c'hai solo la miniera non c'hai il terreno per vendere non ti sentiamo? no non ce l'ho dicevo che non ah ok ok questo non avevo capito ok a posto allora questo paghi solo 15 della miniera ah visto che sei minatore che eri fatto da poco ti spiego la nuova funzione nella 2.3 che è uscito sì adesso oltre ad essere aggiornate le mod nel regolamento i soldi sono stati nerfati tantissimo adesso uno stack di rame grezzo vale uno stack di moneta se non lo sapevi perché l'abbiamo molti si sono lamentati che effettivamente era un po' troppa corruzione creava e infatti abbiamo dovuto fermarlo perché sennò peggioravamo la situazione va bene va bene quindi vabbè niente è stato fermato adesso i soldi ritornano normali quindi era giusto per dirlo ok sei da poco minatore e vabbè niente guarda la maggior parte delle persone se non mi due non ho visto altre persone online hanno già quasi pagato tutti mancano solo queste si panzer barone si intende semplicemente il suo baronato appena riscattato tutte le tasse ti porta i soldi emran canna e master tirano sono a black water ci penserà sicuramente il signor gilberto l'ammiraglio e turi per ora non c'è però non ha pagato le tasse una volta gli fai una ramanzina e dici guarda la prossima volta devi pagare sennò viene multato e gli fai pagare due volte le tasse semplicemente ok va bene va bene del resto puoi quindi minare se vuoi per ora non c'è bisogno di stare qui va bene va bene dimmi signor scogna un pochino 28 gradi assaggia assaggia vediamo eh aspetta uiii ma venti eh questa è tanta roba ma mi rimane fisso finchè non sento tanto caldo vero? no per un qualche minuto ah ok ah quindi è proprio un effetto no non ce l'effetto ah ok però dura come fosse un effetto ok esatto fighissimo boh intanto intanto qua ho finito devo solo prendere andare a prendere gli accordi commerciali con te l'ho fatto mi manca fabbro strega e macellaio che macellaio sarebbe nato adesso io non ce l'ho provare il pesce ah? io non ce l'ho il pesce come non ce l'hai? lo devo dire il pesce eh vabbè quando ci sei lo fai o lo peschi o me lo dai quello allora ah è entrato il signor Gilberto ok allora vado un attimo a riscuotere a posare i miei soldini tarata anzi sai che faccio? prima di andare a posare vado a prendere tutti i soldi giustamente mamma mia cosa non devo forzare? vai vai tranquillo se ne conosco ah più che altro tanto oggi non è che abbiamo eventi da urlare guidare eccetera quindi puoi lavorare per farti i tuoi puoi anche evitare di fare troppo rp oh sono anche a te kebab madonna quanti cazzo di soldi ho fatto? madonna quanti soldi? quanto ho fatto? 3 sacche e mezzo con questa merda questa è una rapina no non puoi non puoi nel senso perché non vale così questa è una rapina questa è una rapina oh vedi che è entrato anche l'ache ah ho sbagliato giusto qua non c'è la mappa ero convinto che c'era la mappa abitudine allora stasera quando c'è poca roba da fare penso un po' ai negozi adesso ritiro solo i soldi così metto a creare un po' di roba mamma io vado a farmi la doccia vai vai a posto ok comunque un po' tutti avete l'influenza vi giuro anche un altro ragazzo che gioca nel server poverino mi hanno dato un'influenza forte spero che mi abbia detto che ok adesso è entrato molto meglio ho minchia è stato tipo una settimana morto nel letto a me è bruttissimo queste cose e questo è il mio nuovo quadro allora adesso devo fare il lavoro da doge quindi andiamo a fare affari allora uh la la signorina una cosa io volevo dirti anche un'altra cosa per i cartelli e abbiamo aspetta un attimo che prendo il foglio perché non mi ricordo noi avevamo fatto oltre le strade poi a livello con me cioè con lo stato avevamo una costruzione prenotata con lei che era cartelli stradali e lucid si ricorda? si mi ricordo e mi avevate anche già pagato si che sono già pagati e volevo proprio chiederti questa cosa per il momento io direi quando ferma i cartelli stradali osirisse le luci finita le strade vabbè faccia il lavoro alla signorina e poi passa direttamente al ristruttamento delle due case ok? si ma ne avevamo già parlato in teoria avevo detto che ah giusto avevamo già parlato vabbè perché adesso per un altro motivo è è un piccolo spoiler anche per il tuo pubblico potrebbe essere interessante a febbraio o fine gennaio uscirà osiris 3.0 e ci sarà una cosa molto molto figa i veri cartelli stradali ah ok quelli con la freccia quindi sicuramente ti interessa e oltre questo se c'è altro da dire aspetta che controllo un attimo questo per ora dobbiamo mettere questo simbolo controlli lascia una dipenda si è è proprio quello che sto facendo veramente questo abbiamo detto così questo è in fase costruzione si gli otto dovrebbe essere alla sua fabbro teoricamente io volevo capire se Wolverine oggi c'era perché teoricamente si un sacco di soldi da spendere non ho più niente in negozio ok a posto ho fatto la mia agenda un po' dura dov'è il signor Gilbert allora c'è Gilbert allora venerdì c'è stato mi pare che si è concentrato per le navi e è l'ingegnere perché adesso di nuovo lì l'ingegnere perché Martina non può farlo quindi si è dedicato molto di più a quello perché ha avuto tanti clienti quindi non so se poi è andato nel nether ma non ha avuto molto tempo ma che cazzo chiedo adesso io c'è tutto buono eh più che altro il nether è stato anche bloccato perché con la nuova patch c'è una nuova cosa che serve per entrare lì dentro e hanno aspettato che coltivavano le piante di proposito apposite ah eh infatti nessuno è andato praticamente si può dire io non faccio niente ho l'unica cosa sono quelle due eh lo so però se entra ma penso che dovrebbe entrare non so se vuoi chiedo a Daniel se c'ha qualcosa per questo punto se non ha fatto niente l'altra volta comunque no teoricamente ti ho detto ha fatto quello per questa ragione comunque siamo in estate eeeh io ho un sacco di stack che non so dove mettere di monete nelle casse eeeh si da trovare post già dimmi segnalina qual'è il problema ecco ah è un altro le chiavi che aprono le tasse non le aprono più come non le aprono più ma sono aperte adesso no no questi due non avrà nemmeno questi di qua non è che è confusa le chiavi ho provato anche con una chiave nuova non fa ecco la chiave nuova no finchè sono chiuse non funziona no non mi aprono con quelle che abbiamo nessuno ma non hai le copie delle tue chiavi no come no io sento eh devi avere le copie delle tue chiavi se le poi come le apro devo forza mettermi in creativa e devo spaccarti tutto non so se hai capito che ti uscirà tutto a terra devi sistemare tutto eh lo rischiamo ok ti do troppo le casse più di questo ma te lo dico è un macello adesso questa sono uno due tre casse giusto? anche quella ad oro giusto? allora intanto uno due tre tieni lock signorina comunque faccio più attenzione gentilmente quattro ok ti ho buttato le chiavi in la terra e lock sono quattro vedi è la chiave e ti serve questa cassa eeeh niente spacco prima questa d'ora qua e sistema ci sono pozione là sopra con pazienza sistema va bene? aspetta prendo queste qua due tre quattro queste qua te le spacco dopo che devo andare si dai te le spacco dopo sennò ti impazzisci ti fida red panza dimmi capo capo senti ma io per mo il rame grezzo è uno stato giusto? si c'è uno uro si si ti serve una moneta mi devo sempre prenotare quindi? eeeh no il problema è che c'ho una cassa intera di grezzo quindi eeeh per forza sempre devi prenotare devi vedere se ci sono ma mi pare che è libero comunque non hanno non c'è più nessuno mi pare vai a parlare con gilbert che proprio lui se ne occupa di tutto ma stava altra gente sul libro capi? ah eeeh parla con lui eeeh no vabbè ma se c'è altra gente tu parla con lui lei ha detto il doge di attivare la focina perchè tanto a lui non gli costa nulla adesso è più veloce allora ti vado ad aggiustare il resto e viene allora uno te le apro tutte e tre no? va bene pensa poi ti sistemi tutto attenta che c'è qualcosa lì sotto lo prendo io tieni ti ho dato tutto ok abbiamo risolto compra un'altra keyring ok facci la copia di tutte le casse la vende fabbro come faccio la copia? vai dal fabbro compri la chiave fai la stessa cosa che fai con ora ti fai la copia e la metti nell'ender chest che se in caso dovessi perdere quella chiave ce l'hai quella di riserva e poi ti fai un'altra riserva ok posso ritornare in modalità vivente no questo qui questo qui allora stiamo sbagliando tutto vedi? ecco qui le cose devono essere perfette fra ma non mi fa entrare è ricambiato il link che senso non ti fa entrare? ma perchè non te l'ho passato lì? si che te l'ho passato fra vai su discord te l'ho mandato è quello la che ti ho mandato su discord l'ultimo non è cambiato è sempre lo stesso ah no aspetta 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 non è che è cambiato è che tu mi hai chiesto un altro prima eccolo questo qua quell'altro è quello dei zombie questo e quello c'è quello là di osiris ok ho fatto carlo a posto non avevo notato che non te l'avevo poco mandato vai ok 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 Grazie a tutti. Mi sta rendendo l'impatto, non trovo le chiave. Allora. Salgo sopra. Salve. Scusami, ti ho rubato la lana per sbaglio. Mi dica, mi dica. Non so, devi andare a chiedere a lui. Ma mi pare che era un buon punto, quindi vai a chiedere a lui. Io il sindaco, ancora nessuno è diventato esploratore dell'Undra. Per ora nessuno, ancora non è interessato a nessuno. Ma è normale, perché comunque, lo sai, le cose nuove, quasi nessuno all'inizio le punta. È uscito un nuovo ruolo, un paio di settimane fa. È del nuovo mondo, si chiama Eundergarden. È l'esploratore dell'Eundergarden, tipo il Nether, ma è in questo posto. Sì, nessuno l'ha mai fatto. Allora, scusa un attimo, Dintouch, se ti posso chiedere una cosa. Per quanto riguarda Master Tirano, se in caso non si collega, ricordi tu di eliminarlo in caso. Cioè, anzi, no, vabbè, me ne occupo io, tranquillo, tranquillo. Sì, è giusto, è meglio. Ok, signor Ale, come cazzo ti chiama il tuo personaggio, scusa? Ale, sì, abbiamo scritto Ale. Allora, lui si chiama Valoros. Allora, Ale, comunque dicevo, sì, è un nuovo ruolo, potrebbe essere interessante. E chi sta in quel mondo può raccogliere qualsiasi cosa. Cioè, tu praticamente, tu sei un esploratore dell'esploratore del mondo e lo vendi al mercante dei mondi. Il mercante dei mondi è quello che vende tutta la roba dell'annetta di questo mondo. Cioè, tu esplori lì, prendi la roba e lo vendi. Ed è Daniel, ed è Daniel. Eccolo, Daniel. Devi parlare con lui, se vuoi parlare. Se ti interessa farlo. Se poi ti interessa invece per il momento lavorare con qualcuno, ti conviene, perché poi ti apre un'azienda come si deve. Daniel, Simon, ma il Fabro è già pronto? Eh, no. Ah, ok, no. Quindi, eh, comunque lui deve lavorare con te. Ah, ma tutto... Insegnagli come lavorare. Fagli, spiegagli che cazzo deve fare. È meglio, no? Lo prepari ora. Segui Simon. Simon, mi devi buttare roba, eh? Mi dice usare la versione 1.18. Devo ricancellare tutto. Fra, ma che cazzo hai aperto? Fra, tu hai aperto secondo me quello dei zombie. Devi aprire la Siris, non quello dei zombie. Ma ne è 1.18. È 1.20.1 questo server. E fra, noi siamo... Io non sono pazzo. Osiris 1.20.1 la versione. È impossibile 1.18. Allora, l'ho avuto il sussidio. Ok. Comunque... Vabbè, se voglio aprire il nuovo ruolo, ragazzi. Non sto qua per giro. E che volevi fare il nuovo ruolo? Eh, dove è il nuovo ruolo? Allora... Ah, vuoi far diventare Andergan? Eh, allora, sì. L'avevo detto se è andato. Eh, allora, prima di tutto devi aprire l'attività, anche. Vabbè, fammi vedere un attimo com'è sto mondo e poi... Ah, anche, vuoi vedere un po' com'è, e viene. Ah, venite a vedere e vi faccio vedere dove è, ovviamente, il portale, dove si trova. Neanche io riesco ad entrare. Raga, ma avete aggiornato... Ho scaricato il pacchetto nuovo. Perché il pacchetto viene aggiornato quasi una volta a settimana, ora. Se non avete aggiornato il pacchetto, è ovvio che non vi fa entrare. Forse vi chiede quello. Le versioni delle mod sono sbagliate. Ma è impossibile... Del server. Perché se no... Se no staremo giocando, capito? Allora. Allora. Devi aprire qui, per favore. Uno dei due. Allora, il nuovo mondo è qua sotto, ragazzi. Attenti che vi fate scassare le corna. Vedete qua, questo è il portale. Che poi verrà fatto l'entrata da... Appena costruiscono bene. Però già, come vedete, è pronto. E questo è il posto, un portale nuovo. Prima di tutto carica molto più velocemente del nether. Guardate. Subito. Subito. Dai, sei entrato veloce. Due secondi. Guarda, due secondi. Non mi sei fatto. Eh, ma fai un'ufficienza un attimo. Vieni un attimo di qua. Cosa? Cosa vuoi... Ah, non lo sai. Dove è andato? Un attimo a mettere un render cesto qua. Almeno quando uno entra e esce, si prende si... Ah, hai ragione, è vero. Ci siamo dimenticati di questo particolare. Effettivamente anche qui. Io entro un attimo. Io poi appena esco... Dove la mettiamo? Aspetta, è visibile però, ragazzi. Un posto dove si vede. Qua. Qua. A fianco all'incudine. Non puoi non vederla. Boh, se volete provare. Provi tu, Scogna. Se vuoi provare. Perché tu hai detto che vuoi fare tutti e tre i tipi di cacciatori. Ok. Tu ora hai due ruoli, giusto? Sì. E provate allora. Vedete. Sto mancando. Ah! È giusto ora, Scogna. Tu che hai già la bella esperienza del nether. Qual è il contrario del nether? Si congela? Sì. Mi pare, eh. Vabbè, manco così tanto. In realtà 15. Però sì, nell'acqua e nelle zone più fredde ti congeli. Perché qua le... C'è una cosa che può essere vantaggiosa per l'estate. Ci sono dei cosi che ti fanno sentire freddo. Qui c'è la roba blu. Che è il contrario della torcia di fuoco. Perfetto. Vabbè, esplorate. Date un'occhiata. Non ho l'idea fra... Fa proprio che vieni a risultare. E i mostri sono anche più pericolosi. Stavo bene. Guarda. Boh, comunque questo è... A parte è molto più rapido a caricare. E infatti... È veramente fatto bene questa moto. È leggera comunque. Quell'altro sta scavando. Che stai scavando? Ma quello è un terrone. Ho aggiornato venerdì. Eh, e se è la giornata... Come ho aggiornato venerdì? Eh, Master, solo tu non entri. Carlo è entrato adesso. Che errore ti dà? Dimmi l'errore. Ma vedete che è un mostro da tu? Mamma, è un mostro. Sì, quello fa male. Allora, i mostri rossi sono cattivi. Tutti quelli che hanno colore rosso, occhi rossi, sono tutti mostri che attaccano indipendentemente da chi sei. Appena ti vedono ti attaccano. Boh, comunque esplorate, ragazzi. Cioè, provate a vedere se vi piace. Master, dimmi il problema che ti aiuto. Cioè, vi devi dire l'errore perché altrimenti non lo capisco. Ah, sei entrato apposto. Vabbè, è importante che risalto. Scusate, ma mi rompevo il cazzo di uscire a Normand. Scusate, ma l'acciaio è lo stil. Allora, scusate, raga, abbiamo... Ciao, ragazze. Mi dica tutto. Dovrei fare un bel diamante, attenzione. Dimmi, dimmi tutto. Allora, possiamo parlare dentro? Sì, sì, certo. Sì, sì, certo. Venghi, venghi. Dimmi, dimmi. La prima è che ho notato che il sussidio di povertà e di succupati è di 50. E uno stipendio pubblico normale di un merlinaio, di un soldato è di 60. Sì. Non sono l'unico, anche Gabri pensa a questa cosa. Cioè, sono molto vicino. Non fare, cioè, occuparsi a essere una persona... Ah, ma il sussidio però è vale solo adesso. Una sola volta? Sì, dovete darlo solo una volta perché abbiamo inventato... No, no, è il primo che ha avuto Ale. Mi ha detto che l'aveva già ricevuto. Allora l'ha ricevuto. Ah, sì, già l'ha ricevuto. Allora, sì, il sussidio non può avere l'apporto perché lavora per Daniel. Quindi vai da lui e fatti restituire soldi, sì. Si trova ad Alfobro, in caso. Poi l'altra cosa? La seconda cosa, ho visto che hai fatto... Che sono programmato in costruzione delle case popolari. Sì. E ci ho avuto un'idea simile, anzi sarà la prossima costruzione che farà Luke. Una sorta di... Non lo so, una sorta di circolo. Dove fare... Ho un primo piano una sala comune e un secondo piano varie stanze. Che sarebbe una cosa privata, non pubblica. Però lì noi possiamo ospitare un sacco di persone che possono cercare tanto. Anche perché pensiamo anche di fare delle attività culturali nel circo e le cose così. Si può fare, però dobbiamo proporlo sempre a tutti gli altri e chiedere se ne vale la pena. Sì, infatti sa, noi il circo lo facciamo ugualmente. Poi siamo disposti a raccogliere anche i genitori, ok? Dipende, se è un privato allora sì. Perché comunque il terreno viene acquistato da te o da Luke come preferite. E' un altro discorso. Se deve essere una struttura pubblica e comunque non è comprata il terreno, dobbiamo parlarle al comune. Questo dovete scegliere voi. No, sì, sì, è sicuramente una cosa privata. Ah, quindi è una cosa privata. Sì. Un ospizio praticamente, più o meno. Più un circolo. Il fatto uno se ne può andare se se ne vuole andare e nel frattempo... Ah, ok, dove uno comunque può fare il ricreativo al piano sotto, ma al piano sopra è come se fosse tipo hotel, mettiamo una cosa. Sì, 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 tipo una casetta. Ok. Beh, ci potrebbe stare, sì. Magari per chi non ha una casa. Però il problema è che quando costruiamo le case popolari, non so se poi durerà la cosa. Sarà un palazzo che ha letteralmente dieci appartamenti. Dimmi. Abbiamo portato il suo ordine. Ok, perfetto. Una alla volta, venite, fammi dare prima l'ordine che devo pagarlo. Allora, ordine, ordine, fabbro. Mancano già due sessioni a posto. Mi manca solo la strega. È nata. E che cazzo è sta chiave? Devo capire di chi è questa chiave. Aspetta. C'è un problema. Ho una chiave di qualcuno, ma non so di chi sia. Non so chi mi ha droppato una chiave. Non è che me l'hai droppata tu. E qualcuno mi ha dato una chiave. Aspetta, muova dalle coordinate così soltanto di chi è. Dove è il signor? Allora, è pagamento. Cinque. Non sapete, fammi anche i conti, ragazzi. No, è 80, oh, bravo. 85 ho controllato adesso. Ho scritto 85. Sul foglio mi ha fatto scrivere 85. Eh, no, perché avevo preso pure il pagamento dello stesso. Allora, parlo cazzo, la muta... Allora, ci si sceglie un po'. Sei lì tu, sai, guarda. Sì, sì. Sì, bene. Tieni, zingalo. Tieni. Non sai manco fare i conti. Questa qui, se tu vuoi fare a caldo o fare a credo? Questa farà a caldo, secondo me. È rossa. Non fa niente. Ma come cazzo scoglie? Aspetta un attimo, cosa, dimmi? Dimmi, cosa ha detto? No, no, no. Più che darmi, metti qua dentro. Ok, grazie mille. Perfetto. Grazie. A posto, l'ordine è pronto. Siamo a posto, signor Ciruzzo. Allora, una cosa. Io, raga, mi... Aspetta, me le scrivo le coordinate. Meno 13. Anzi, Daniel, scrivole tutte tu in terra, perché sono diventi scemo. Scrivi, meno 13, 65, meno 534. Oh, stato fermo. Oh. Oh, meno 13. 65, meno 534. Meno... 534. Ok. TP. No, red. Maggio, come si fa ad avere un ozzaino? Ah, devi andare dal cartiere della moglie di Scogna. Scogna, vuoi accompagnarlo tu? Ehm... Vediamo. Ah, questo mi sa che era tua. Non so se è tua. È del macellaio, in caso... Gliela dai tu? Ah, ma sì, ma è... Mi sa che è una cesta. Sì, è una cesta che non c'è più. Ah, ok, vabbè, tienitela in caso. Gliela dai tu a lui. Perché c'era questa chiave in più, ecco. Ok. Allora. Bu, fatto questa cosa... Effettivamente devo prendere un po'... Di... Canna da zucchero. In caso prendiamo un po' di canna da zucchero. Allora. Chiave e zecca. Andiamo a fare un po' di controllo. Torte ne abbiamo abbastanza. Zucchero... Prendere 5, se siamo a posto. Siamo pieni. Prendere... Sì Signor ammiraglio Ha da fare adesso Ha già convertito i soldi del signor Panzer Non ti sento Ah ok ora ti sento Ah ancora non te l'ha chiesto Adesso si è prenotato Dopo controllo Boh comunque mi accompagni un attimo Blackwater Forse che tu vuoi un altro è diventato mercante Dei Chi? Eh non so Ho visto che sono due attivi nel mercante Ah si l'ha voluto Daniel l'ha acquistato Perché ha detto che essendo che Il mondo corrotto è lì Doveva aprire una terza Dove sei? Ah doveva aprire una terza attività Ha detto che vorreva fare quello Perché visto che comunque Gli riusciva meglio Tra farlo e avere prodotti facilmente Tipo i minerali Ecco per quello Aspetta quindi io sono potuto Boh ma se posso dire Dare un consiglio Se vedi che lo riesci a fare a fare Ma fatti un'altra attività direttamente Ah scusa mi devi guidare tu Eh più che altro perché Ma sono spariti tutti i cannoni qua Ah no si sono rotte Aspetta vedi forse sono nell'inventario Qua sono qua dentro E niente non l'abbiamo persa nell'ultima battacosa Vabbè andiamo con questa Perché il capo d'oglio rompono i coglioni Vai Che altro perché Se Daniel si è fatto mercante Si piglia tutte le robe di più Eh vabbè si si fa in monopole Ci sta ma Alla fine lui aveva fatto quella cosa Perché gli conveniva Semplicemente Non per romperti i coglioni Eh si ma Cioè Ti vuoi che faccio prima Ah secondo me ti conviene aprire altro Ti posso dare un grande consiglio Apri proprio altro Qualcosa che può essere Allora Eh minchia Ci sono attività che Possono essere utili Tipo Dipende cosa vuoi fare tu Eh tipo Allora potresti aprire Come buona attività Allora se vuoi fare tipo come ora Che comunque avevi solo la roba in vendita Non dovesse esci troppo dietro Potresti puntare anche Ma tu non volevi fare gli interni delle case Eh Sì ma Ce ne sono già tre E poi anche per il tempo Potresti fare Oddio potresti fare quello che vuoi in realtà Non è che c'è troppo sto blocco adesso E comunque Per come stanno andando le cose Teoricamente dovremmo crescere sempre di più di persone Teoricamente Poi boh Beh oddio dipende Perché Contadino mi farà un po' inutile A me Contadino ce ne sono due Eh sì ce ne sono due Ma Cioè Penso Non so quanto dovrei abbassare i prezzi Per essere competitivo Boh 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 comunque è a posto Più che altro Alcuni non sono fatti proprio vedere Alcuni stream Non spariete Sicuramente lui è fuori Siamo arrivati Grazie per il passaggino Ma oggi facciamo qualcosa o Non c'è nulla da fare Di Eventi no Di guerra eccetera No no È tutto tranquillo Oggi si fa economia Ma tu non ne hai visto Vedete come sta cambiando Qui guarda Sì sì Io l'avevo visto Ah ok Questo è figo Questa sarebbe la base Baffo La sua mini Il suo negozio d'abbinatore Che non l'ha mai messo Qui Ok mi serviva qua Questi sconti Quando li ha chiamati Ovviamente arriva subito Uno due tre Quattro cinque post Mi servivano Posta Salve Master Tirana Salve Ma le tasse quindi Le avevi già pagate da Posta Sì sì L'avevo già mandati Ah hai fatto tu Ok Ah no aspetta Io ho quelli di Rakan Via posta Quelli di Ah ok Stanno vabbè Stanno lì Stanno lì Probabilmente per là Ma Master Tirana Cosa stai facendo adesso È finito il fabbro poi Qua fa caldo Eh quasi Fa caldo Sì siamo vicino A zona deserto Quindi fa più caldo Del normale Poi si è finita La struttura Poi mi servono indicazioni Per quanto riguarda Gli interi Ah ok Perfetto Hai fatto fare uno più uno Beh ottimo Mamma mia Salve Il miglior contadino Della storia Come va Come va con il cacao Marrone C'è due stack Ok ora chiamo un attimo Cosa Sai com'è Di là ci sono kebab Cose Quindi è un po' difficile Venire lì già Cosa Qua è stai Nerva Nerva Ma fa un po' caldo qui Allora, quanto costa quindi? Due stacche di semi Ok, tutte e tre quanto costano? Non so quando volevi venderli Essendo che deve essere un colorante Spero non sia palpino, troppo alto Sì, abbastanza Perché serve i coloranti E il marrone serve di più Perché lo vende a vari clienti Che dici, 25 o 20? A stack Sì Sì, anche 30 pulito te lo fai Allora facciamo Dai, tutte e tre stack, sì Ti faccio C'ho giusto giusto le monedze Fortunato 90, tiene A posto, ho comprato anche le canne da zucchero Eh sì, al comune serve Perché ci serve per dei macchinari Oh, grazie Allora ci rivediamo A breve Sicuramente ritorneremo Questa Vento chef Fai un Fai quella materia prima Sì, vengo sempre da te Chi sta? Bella idea Ok, davvero Sembra che sia a palana In culamonna Ok, ti ho aumentato a 200 Ti ho aumentato a 200 Eh, vorrei Parlando Vabbè, ci sentiamo abbastanza Comunque Sasuke Come va con l'occhio? Ti sei sparato l'occhio Aspetta Subito vengo Subito vengo Ti hai sparato l'occhio? Eccomi, eccomi Torniamo Qui doveva riprire un ristorantino Eh? Doveva riprire un ristorantino, sai? Eh, tanto Quello è andato ormai Oh, ci può stare Secondo me un ristorantino Tanto è una cosa Che occupa poco spazio E magari E se c'è la carogero però E magari la carogero Oggi non c'è quindi Sì, non c'è Non c'è molto in generale carogero No, no In realtà ultimamente Sta avvenendo sempre Ciao Rakan Ci sentiamo Mi raccomando Sorveglia il villaggio per noi Mi fa pagare poco Magari riesco a fargli concorrenza Per tutto lì Allora, farai concorrenza Per il semplice fatto Perché anche io C'ho il che po' baro Però la gente compra da me Perché vendo il cibo a poco Lui sarebbe un ristorante Tra virgolette di lusso Sai, quello che ti siedi e mangi Invece il mio è un che po' baro Vendo con i simple shop Quindi vendo a poco Perché devo cambiare posto anche del Ah, finalmente abbatti quel cesso Mi piace Cioè Quel cesso nel senso dove si trova Cesso Allora, prima di tutto Ci siamo invertiti i ruoli Se posso dire Sto guidando io Eh, lo so Ah, per vai No, perché ogni volta che c'è un capitoio Io te lo dico Se capisco Perché il capitoio Mi metto in creativa Io non ho mai capito niente Io ogni volta che uso una nave C'è un capitoio Che ha la mania di suicidio Contro di me Ma a me non mi succede mai Ah, via Comunque abbiamo abbattuto Un paio Varie specie Quindi Ce ne sono molto meno Rispetto a prima Che quali ce ne sono? Eh? Certo, quali ce ne sono? Di cervi No, no Di chef Ah Tre Uno a black water Che Baffo Ma lui fa solo eventi speciali Calogero Anche lui Eventi speciali Ma se mi ricordi sto baffo Sì Ottima Venerdì Ha avuto il gioco originale 25 Andiamo Brothers Grazie per il passaggio Compagnia e passaggio Intanto Questa roba Che è per te Paparapà 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 Bastardo guarda che è un pezzo di bastardo L'ho messo adesso di proposito Adesso devo andare a botta Per forza Per forza Per forza C'ho un dubbio però Per forza 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 Minatore Per forza 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 Deve prenderla sul muro La messo sul muro No È sempre stata Sul muro Qual era la copia Che abbiamo perso Perchè è andato Nella lava Non so No però Ah E' scritto A pro Fammi sentire Che ha detto Povero cristo A Prima Signor Nagge Ha visto il signor Yoto Signor Yoto Guarda parca puttana le orecchie Ma dove che è andato Mi pare che è andato a fabbro Perché era qui che abbiamo parlato No non so se è andato di là Ah è al comune Al comune è la mappa Speriamo che risolve quel povero Cristo Di nuovo come si fa veramente la sfiga nella vita Si deve avere la sfiga Signorina Signorina inizia a preparare l'ordine Che io ho ordinato l'ordine Allora breve venga al comune Due minute Si ma porta al comune Che non ho i soldi Maestro Maestro cosa sta pensando Maestro Sono venuto qua per vedere l'opera Non me la fa vedere Maestro Mi arriva Io gli ho avuto Mi manco Io gli ho avuto E poi Mi ha togto Non mi hai Mi hai Mi hai Mi hai La E poi Mi hai Mi hai Mi hai Morgere ma è prima di parlare con baffo tu lo vedi meglio i risultati li vedi tra una settimana al massimo tagliamo mezza faccia dai andiamo bro no vabbè 5 per uno stack di carbone ci sta sembra un prezzo onesto e il carbone? si ah il carbone oscilla da 5 a 20 di monete come prezzo non ci sta a 5 mi sembra un prezzo dipende 25 anche per il carbone a me mi sta portando troppe spese allora ha voluto le strade in questo qua vabbè dai comune tranquilla le devo cuocere la stone vabbè ma ti dico il comune ha più di 5 mila stack di monete eeeh vabbè allora eeeh eeeh e ciò stiamo investendo allora ciao si pronta? si bene allora signorina prima di tutto prima di tutto parliamo di una cosa seria prima cosa una cosa serissima aspetta vieni qua metti le pozioni qua dentro arrivo mi dica la sola di fase costruzione no eeeh si c'è stella vorrebbe comprarla ah eeeh perchè ah vuole una casa nuova eeeh no nel caso la prenderei per trasformarla nelle ah quella a fianco quella a fianco di casa di stella verrà modificata pure simile eh verrà nemmeno ristrutturato i tuoi edifici allora aspetta ora le metto un'altra zaino ok puoi buttare signorina ma aspetta ma quante pozioni abbiamo detto? otto pozioni no uno due tre quattro ah hai detto per quattro sessioni no? eh ma tu mi hai dato tutte le sessioni sì ah 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 venga gli danno magia aspetta signorina che lei ha fatto veramente in fretta informazione di servizi per una rapina quanto tempo si sta in carcere? perchè? no niente niente era un'informazione di servizi sì allora signorina io ti devo dare 480 monete aspetta un attimo che do anche a te i soldi ci becca ti devo vieni qua signorina uno due due ti devo dare altri cinque stack aspetta diciamo così ok un attimo solo subito arrivo a te ti devo? a me è mercoledio 22 23 24 25 del carbone sì ok allora poi uno due tre quattro cinque signorina dove è? stella dove è andata stella? signorina io devo dare i soldi che fai? se ne va? eh non mi so di avere i soldi di tutti allora diciamo che lei è facile da imbrogliare ne tengo conto di questa cosa stanno lì tutti i soldi stanno dietro lì lì aiii dietro lì lì ok a posto e niente abbiamo concluso subito l'affare è stato molto veloce grazie mille ok un affare concluso sai c'è una doccia? no parca l'alto ah dai parca l'alto hai anche ragione ok allora abbiamo svuotato un po' questa cassa questo quando la gente paga le tasse ma l'abbiamo lasciata aperta oltre che svuotata vabbè l'ho svuotata io adesso e l'ho lasciata io aperta vabbè stavo dando i soldi alle persone ok ok qua tutto a posto tranquillo tranquillo ma Panzer non ti ha dato i soldi del baronato? ma Panzer non ti ha dato i soldi del baronato? ma Panzer non ti ha dato i soldi del baronato? si che ha pagato Panzer si è andato via comunque mi sa Panzer deve avere una bella multona qui eh è una sonora sola è una sonora sola allora oggi mi dedico un po' ai negozi ma il server non è riuscito ok impossibile connettere sul server hai cambiato l'ip? si devi mettere nuovo ah ma ci provo te lo mando pensava che te l'avevo data non so manco quando abbiamo pollato l'ultima volta aspetta ok quello che hai detto andiamo allora ragazzi qua Carlo penso solo con il negozio che ho fatto tre stacche e mezzo in una sessione qua sono serio questa roba che non ce l'ho cosa? questa roba eh l'ho messa da poco aspetta un attimo che ti prego dimmi che ce l'ho non ce l'ho Gesù Cristo Santo devo comprare la carne gli altri ingredienti ce li ho insalata e cipolla insalata mi dica maestra mentre hai sto cazzo di biobagelli ecco e dice a me Kelly io posso dare l'esplosione eh? per cosa? per il bioma della misa per tolata ma ti conviene andare in aereo? ma tu sei un cavo aeronatica porco ho capito ma posso portare Carlo ma perché devi portare sto povero Cristo e rompere gli coglioni che cosa? questo vuole molestarte ah mano ah lo puoi per lo puoi per no fuori Carlo no ma niente come è andata il diavolo del 10 poi il primo prendi i soldi prendi prendi salve salve mi fai un piccolo favore? tu che hai le chiave poi mi dai a posto di della carne corta guarda la carne cruda te la pago lo stesso prezzo però me la devi dare cruda non ce l'hai? ah beh no non fa niente infatti mi sa che ce l'avevi dai era solo perché mi conveniva perché con il taglio del coltello essendo chef posso raddoppiare la carne cioè la fa un pezzetto io mi serve per una ricetta che io faccio quindi risparmio però non fa nulla non fa nulla non è una cosa per forza ok a posto fatto devo fare i kebab tieni te ne regalo uno grazie ciao ciao signorina hai bisogno di cibo? no ne ho abbastanza dico se hai bisogno di vero cibo qua c'è tutto quello che le serve guarda questo è bob panino kebab il migliore è questo te lo dico questo qui qua fuori ti dà benessere 5 minuti per 5 minuti non avrai fame e in più ti cura più velocemente ovviamente è meglio per i guerrieri però è esatto può essere utilizzato quando proprio magari deve fare sammichi sta morendo eh si da lontano si sente la sua voce quando muore vedi perfetto eh comunque era giusto per ricordarsela anche perché se no oggi il Berto sta per aprire un nuovo ristorante anche lui non lo so quello lì mi potrebbe servire quando ad esempio sto costruendo una casa molto alta e mi butto giù dal tetto per andare a prendere le cose ah beh effettivamente è una cosa che faccio molto spesso quindi potrebbe essere utile si a voglia vabbè comunque vedale comunque c'è cibo quando volete qui potete trovare tutto io mi lancio giù dai tetti delle case ah questo comunque è l'edificio da ristrutturare ah infatti l'ho scritto strutturare da struttura da strutturare e vendere che dovrà diventare come quella casa a fianco ah ok ok come questa qua che sto facendo si si ok avevamo detto di un po' spostarle tra loro in caso magari la mettiamo un po' non ho spostato però posso spostarmi ancora si si dico questa qui anche la spostante anche ma che è attaccata al coso alla finestra si vabbè a parte deve essere più piccolina comunque rispetto a questa è più larga si può dire quindi vabbè poi ci penseremo allora facciamo una cosa io questa qui gliela faccio ok non so se questa l'aveva già pagata no 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 nessuno nessuno è stata pagata ok gliele faccio uguali identiche proprio si e le faccio pagare uguali quindi va bene si è molto meglio molto meglio così magari facciamo anche gli interni fatti bene e mi dice il prezzo le faccio identiche che così non c'è disparità tra un e l'altro si va bene va bene io vado al lavoro per farla pagare un po' di più magari qualcuno che è un po' più ricco e la vuole un po' migliore no 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 e poi la vuole migliore se la fa diciamo che è meglio farle così perché comunque case troppo costose è difficile da vendere invece case medie le vendi subito perché questa è già stata prenotata bene ok va bene arrivederci arrivederci no per una moneta hai una moneta? certo ma ne cade una devo comprare le uova una sola? si una sola ecco lei grazie mille oh grazie devo fare le uova sto facendo le ricette cosa cosa dimmi perché sono ci sono mi sembra che non c'è nessun cosa cosa? nessun marinaio ora? c'è l'ammiraglio c'è proprio l'ammiraglio tu sei il marinario dell'ultimo volta non mi ricordo starpix è anche un marinaio stella perché dove devi andare non la sento mi sono mutato per sbaglio ho detto c'è sia Gilberto che l'ammiraglio che abri e stella come marinaio anche però dipende cosa devi fare cosa devi fare è perché serve lo slime per prendere sto lolly la ah allora vai da Gilberto ti porta lui lo trovi al comune se no scrivegli in chat va bene va bene grazie mille aspetti io devo prendere il cibo per il viaggio vada vada non ti preoccupare cosa mi consiglio allora per viaggi estremi ti consiglio prima di tutto questo di portarsi a meno due o tre di queste sì perché comunque danno benessere per cinque minuti a meno un paio per rimanere aspetta ti dico subito perché non mi ricordo ah no qua non me lo dice giusto non abbiamo la moto dei zombie mi pare se mi ricordo bene questi due sono danno tanta vita il paninazzo o il kebab il kebab mi porto un po' di questi un po' di questi gliele sfoto un pochino ok dovrei essere grazie tanto grazie a lei vado a vedere per questo vieni un attimo che ti do anche la moneta che mi hai prestato ma non serviva e vabbè si paga sempre i debiti ma non si preoccupa buona giornata buona giornata ok chi è che aveva bisogno come si distrugge il falò tosto sinistro con l'ascia forse non mi ricordo c'è c'è il pesce del falò come faccio a vedere quanto è corto? e tu finisci domani mi serve il pesce eh ce l'ho però aspetta perché vado un attimo a posare i miei soldi vado a prendere i soldi del comune che erano ma devo distruggere il falò 125 si deve a prendere i soldi vabbè scende già ho chiuso la casa io ho questo problema che mi dimentica se chiudo la casa ma devi andare a black water e devo per di più lo slime lo slime è nel chunk di black water ok e devo aspetta devo venire anche io se mi dai due secondi allora lo aspettiamo aspettate un attimo ok devo fare una cosa ci sono vabbè Nati tu prepara il pesce lo vengo a prendere 4 stack sono 4 stack no 5 5 si si ce li ho allora devo dare un attimo una cosa qui ho tutto no no mi sono finito i barili cazzo un po' la roba qua inizia a mancare allora i barili i barili come si scrive barili? come si fa il barino? barili ok ma ah e vabbè uno può sbagliare nella vita allora ok questi mi sembrano di maniera normali i negozi stanno scarseggiando problemi meglio i quadri ci sono abbastanza ok fatto allora legname ne ho ancora tanto vero? ok sì a voglia sto a posto per un bel po' l'altra volta feci un acquisto della madonna vado a controllare l'ultima cosa preparo le chiavi a porta allora allora Io se mi servono uova e carne di bovino Per le mie ricette Poi oltre questi Mi servono C'ho panina e hamburger Mi servono Allora Kebab mi serve cipolla e insalata Devo comprare grano Sicuramente che sono a corto di pane Cipolla e insalata Ma non vuoi la roba vale? Dopo Natia spesso facendo una cosa Ma allora ti cuoci il pezzo nel frattempo Qua pomodoro No no Quindi questi sono i ravioli cinesi Cavolo e bovino Ah Si può fare anche con altro Non per forza bovino Basta che è insalato praticamente Anche col pesce addirittura Ah E pesce ce l'ho Quindi a questi non mi servono niente Mi servono più o meno le insalate Principalmente Insalata Insalata Carne di bovino Qua mi servono questi Hamburger di carne Comodori Mi pare che ce li ho Allora mi servono Insalate Carne manzo Cruda mi serve Carne bovina Cruda se è possibile E mi serve Mi serve Per il mio riso fritto Comunità ricetta Uova che rota ce le ho Riso ce le ho No il riso non ne abbiamo molto Ok Dobbiamo comprare un po' di cose Per quanti soldi mi ha fruttato Questa attività Porca puttana Ne vale la pena Devo solo prendere i soldi Comunque scogna Tranquillo Lo so che non stai molto bene Non ti preoccupare Eccomi scusatemi L'attesa No Non ci credo Ho dimenticato i soldi Aspett Comunque Il ristorante cazzo Non pensavo Facesse così tanti soldi Porca troia 5 6 Un po' portiamone a 8 Nel dubbio Eccomi scusatemi Per l'attesa Ma ho fatto un attimo Attendo il capitolo No ti prego Ok Ne sono due Comunque scusate per l'attesa Ma Sono stato un po' impegnato Alla ricerca Sono Stato un po' impegnato Alla ricerca Cioè Di fare rifornimenti Per il mio ristorante Ancario Ehh Comunque la balena di prima Avevano due cicatrici Nel muso Si Penso che abbiamo Mazzato metà di capidoglio E ce ne sono altri Non può Io non credo Cioè se dopo lei Non finisce da chiedermi Io quasi quasi staccherei E andrei A dormire Ah non devi aprire il ristorante No non penso Anche perché Non Dagli davanti Ah ok vabbè Perché più che altro C'era una cosa che potevi valutare Poi ho pensato che era un po' piccolo Come è struttura Che cosa? C'era l'attività di Sora Che è in vendita Ah E ma Piccolo però Non so se Non so se Mi 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 Staccherei Il ristoratore Non è che Cioè Se devi comprare il cibo Vai dal macellaio Puigli e la carne Non so io vendo un casino Oggi ho fatto 6 stack Perché le persone Soprattutto i cacciatori, i poliziotti eccetera Prefescono col cibo Perché la carne si è bella da 3-4 cosciotti Ma il cibo cotto e preparato da 10-11 Non so dove valutare Non so dove mettere l'attività Sì è enorme Oh pensaci Secondo me puoi puntare su tante attività alla fine Se vuole investire ovviamente Io ho fatto i miei 2 investimenti Stanno funzionando quindi Va bene così Io ho investito sul mercante E mi hanno dato a conculo Vabbè guadagnare ci ho guadagnato sicuro Oh bello sto fabbro Cazzo che bello Fighissimo Salve Salve Vuoi sapere qualcosa per le strade? Deve essere a pari con questo Se avevi dei dubbi Deve essere a pari con questo Sì il problema è che poi non entriamo più in casa Se lo facciamo a pari con l'esperienza E infatti questo dovresti metterlo qui forse Credo Credo che sia meglio così qui Non è come Osiris Eh me sto sbagliando Ce l'avevi ce l'avevi Ecco si Sì Ma scusami ma basta andare sulla porta sceso magari Nel senso che magari Sulla porta scende O aumenti la porta Togli sta merda E fai la porta a piatto Non lo so come Vabbè vedete voi Oh di chi è questa? Ok di me Cosa è quella? Blocco lì Quale blocco? Sì quel blocco verde Guardi Non lo so Sta anche là Sulla punta Sulla punta Della tiglia di Sciruzzo Sì aspetta Deve fare un attimo Shopping importante 1,2 Ops Che c'ho questi pesci? Mannaggia la puttana Tutta sta mannezza Questa è per me Quattro pelle Oh Gesù mio Oh mi servono Mi scusi ma Cavoli Sono finite Ok Donna quanto costa il riso Porca puttana Eh la so però 1,2 Scusatemi La domanda Che sembra che Voi siete qui Io so il cacciatore Soprano doppio Perché mi servirebbero Gli slime Per cui avete la parola E Adesso Mi potete dire Dove spono Oppure adesso Non comprendo Non direttamente Non mi sento C'è due altri Rendo Se C'è due Paccine Mettila a 200 E lo sento Eh scusami Sto un po' Concentrato A fare shopping Ragazzi Abbiate pazienza Il mio silenzio Lungo Allora Questo Dove enda Questo Abbiamo gli ingredienti Vediamo ora 3 abbiamo gli ingredienti 4 Se volessi fare Una nuova ricetta Poi che ne vengono Poi che ne vengono Adesso Vediamo Ottimamente Ehm 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 Che male Sto piatto Ci vuole Insalata Che ci vuole Sono a buono Il prezzo 1 2 3 Questo mi piace Come piatto E' molto elegante Insalata Le ho prese Quello che c'erano Eh Minca male I prezzi Questo 2 3 Signor Rakan Scusami se ti disturbo Ma non c'è Il possibilità Di avere più cavoli O sono proprio Fuori fuori stagione Eh Io li ho piantati Però Devo usare La carne Adesso Ah Ecco E quant'è che Aspetta Qual è la stagione Del cavolo Autunno Ah Atunno Inverno Ecco perché No vabbè Vabbè Non è coppa tua Vabbè Ce la faccio Dovrei farcela Per queste stagioni Quando ti sei buoni cavoli Tu A quanto ti serve No no Ce la faccio Con quelle che ho presi Non è un problema Però più che altro Spero che per la stagione Nuova Se può un po' Spingere Spinge Tranquillo Che me li vengo a prendere Perché mi servono Per la mia cucina Sto per fare un nuovo piatto Con i suoi ingredienti Eh Con il salmone Della pescivendola E con i tuoi ingredienti Bacche E cipolla C'è un piatto Veramente Bello Elegante Sì ma sono In tante ricette Sono con Il salmone Tritato Sono con Si usano Per uno Spaghetto Aspetta Che non mi ricordo No Spaghetto Ah per i dolci Principalmente Eh sì Per i dolci Si fanno con i dolci Con la frutta In insalata di frutta Ok vabbè Io comunque Aspetta Messa a bruciare il buco del culo qua Come cazzo fa caldo In questa città Giuseppe Fa più caldo Ti giuro Si riesce a far così caldo Enorme sto pesce Super baffo Adesso ero devendo a baffo Veni qua baffo Aspetta Aspetta No No toglietevi Per favore Ecco No Di faccia La voglio vedere Fermati baffo Togliti Giobar Caputano Togliti Giobar Non devi Toccare Baffo Per favore Cosa è una cosa Baffo Girati Aspetta Non è andato Cercando di fare una foto a sto pesce di faccia E dico solo che prima ero tentato di farlo con le porte No Ok perfetto La foto perfetta Eh va La cosa è arrivata a Piacenza Ho recuperato le passe Ma Instagram Sono riuscito a portarsela Sto cazzo di Di recupero passe Con Instagram Hanno cambiato di mail Sto nel campo Devo vedere Sto mi dando l'assistenza Sto mi dando l'assistenza Eh La puliti Mannaggia Ma non è buttagna Gesù Cristo O comunque Devo fare solo così Solo così posso fare Perché bastate L'ho cambiato di mail La associata Instagram Quindi se faccio recupero Password E la mando alla loro e-mail Capito F*** di buttani in merda Come tutto questo Tramite Facebook Tramite meta Sto meta quest Che cazzo è Meta Meta cazzo Meta maronna c*****a Come mi rendo Ma Brian sta credendo un po' E vediamo se riusciamo i soldi E poi si è arrivato a casa A posto Sono a posto Allora Signor Gilberto Io penso che possiamo Anche tornare a casa Mi dai un passaggio Che ho preso gli ingredienti E tanti ingredienti Porca pottana Quanto speso Tre stacche E un quarto Speso Ciao raga Ne è sempre un piacere Fare affare con lei E' meglio che controlli I negozi Quanti soldi Hai guadagnato Eh dovresti partire da qui Vai 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 Continua Il ristorante Il comune Servi Basterò Cosa? Un buon po' Sì chiaro Mi serve Mi scusi Mi sono trattenuto Un attimo Per una chiacchieratina Allora Signor Gilberto Il barone Ha fatto un po' Evasione fiscale Non ha pagato Non ha dato i soldi Delle tasse degli altri Sono molto Molto preoccupato Da questa cosa Stai rendendo le tasse Eh sì Non ha dato i soldi Delle tasse Che hanno pagato I suoi cittadini Ma il posto che ha da ristrutturare Quanto Quanto lo potrei comprare? Quale? Il posto che ha da ristrutturare Quanto vicino a casa di Soro Proprio il negozio così com'è? Eh sì Ma senza ristrutturare Che sta 150 200 Ma Non costa molto Dimmi Perché hai già un'idea Di cosa voler fare No No Lo devi inventare pieno Perché ho 5 stack Di pesce Le uguale Intanto Quei pesce Nessuno li mangia Nessuno li fa Però vuoi venire a fare quello Ma Quelli commessibili Questo per provare una nuova ricetta Volevo portare una nuova ricetta Nel mio negozio Nel mio Ristorante Viste che sta andando bene Nel mio ristorante Lo provo Eh sì Lo so Ma Io lì Vengo da Una vita Grazie Ma che stai facendo Eh lei stava parlando No lei che sta facendo Perché butti il pesce Eh Ho l'inventario pieno Perché ho il tuo pesce E quei pesce non li compra nessuno Solo ai cuochi servono In realtà Sono i migliori per i cuochi Stai buttando pesce L'unico cuoco Si connetta una volta a me Quindi Ma che cazzo Dicendo che io Vendo pesce Piatti con pesce Tu cuoco Quello kebab E roba di carne Non il pesce No si sta rinnovando Il ristorante Visto che sta andando bene Potrebbe rinnovarsi In un ristorante Eh Ho tre Tre forzieri Con le chiave Piene di pesce Non me ne faccio un cazzo Di quelli Va bene Vieni Salve signorina Il pesce Aspetta Ma già ce l'ho Nel co Mica devo comprare adesso Come no Mi hai detto Cinque stappe di pesce Aspetta Posso aprire i miei soldi Mi fai mischi A beh dammeli Se poi ti do i soldi Oh potremmi Mi fai l'ideal di qua Uno Due Tre Ok grazie Ti devo dare Centoventicinque Anche Nati è fatto Vado a posare prima I miei soldi Prendo quelli del comune Brava Nati Pescatrice di gratta Di grande classe No ho finito tutto il pesce Non ne ho più Vabbè ma tanto Qualsiasi pesce mi dai Basta che sia pesce Eh ma non so Se gli altri danno vita Si che danno vita Basta cucinarlo E danno vita Eh Non si possono cucinare Quelli che non vengono tagliati Eh che ci vuole a tagliarli Anzi Produce più pesce Allora Devo dare Centoventicinque Anati E l'affare è concluso L'ultimo affare Del comune Santa Oh che bello Sempre stati buggati Ma c'è Taran Ora posso Posare la chiave Del comune Prendere la chiave Di Oronchef Dai risolverla Fammi vedere se è chiuso Tutto chiuso Ok Non si sa mai Che lasciamo qualcosa Aia Mi sono rotto le corne Ok Vai Vai Tieni Uno Due Tre Sessanta Sessanta E cinque Ti ho dato Ok Ti pareva che non sbagliavo zaino Vado a posargli a casa Questo è pieno Dove chiedere a Martina Ti potenziamo i zaini Ma c'è Martina in assemble Ah si che c'è Ora glielo vado a chiedere Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci E niente Troppa roba Allora Allora Mi sa che io devo fare una nuova cassa Dinta c'è qui Ma che cazzo era Serve carne cruda Questa non è Cosa? Questo Ma dipende cosa vuoi fare Alla fine Se devi fare un ristorante Per forza Sei bel grosso Se devi fare come me Che babbaro Va anche bene Ops Ho dimenticato la cassa aperta Totto Allora 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 Devo tornare indietro Devo dividere gli ingredienti Bene Devo andare a prendere i soldi Nati Quei soldi che ti ho dato No? Li ho già messi a casa Cazzo Sono ancora a casa Dimmi Mi servono Un paio di stack Di soldi Senza che prenda la chiave E' aperta la cassa Vabbè Prendo la chiave Sei anche tu qua Non ha senso Sarebano due stack Di moneta Ma c'ho troppa roba Un macello Metti qua Tanto Questo è inverno Ora è d'inverno E non mi serve Posso mettere mezzanine qua Poi me li vengo a riprendere Andiamo lì Ciao Roby Quante stracche di soldi di inferno Già ho preso Già ho preso Allora Sinceramente Sinceramente prendo questo Sinceramente Sinceramente E' questo Mi serve questo Ok Allora Ancora volante Questa cartella Toroto Ok Possiamo i soldi Ok Andiamo 1,2,3 Il vestito può rimanere anche lì Non è un problema Andiamo Ok Ok Allora Chi ha via una chef Questa la devo buttare Non mi servirà più Non mi servirà più Arriva Tra l'altro Si è chiuso le casse Ma penso di sì Caso Ovesse lasciato qualcosa aperto Allora 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 Oh Oh Finalmente Una cesta Spaziosa In più Prendiamo la chiave Questa la possiamo poi buttare Allora 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 Ok Questa poi la buttiamo Anzi Facciamo ora Grano Grano Chiunque si sia Chi è Oh Cercavo proprio te Allora avrei Un ordine da fare Se è possibile Mi servirebbe La carne di Pecora E la carne di Manzo Cruda Se è possibile Manzo Non te la posso dare Pecora Manzo come no Non ho in questa sessione Non c'ho più Ho cotto tutto E non c'ho più grano Da domani Filippo Ah Cazzo Va bene Va bene Pecora Quanta E uno stack Mi dovrebbe bastare Per ora Poi va bene Parlo io con il signore Sdrubale Di farmi un po' più carne cruda Se è possibile Va bene Va bene Va bene Grazie mille Allora Qui dobbiamo fare Questo Riso Qui facciamo Grano Possiamo Uvetta Quello che cazzo Le bacche 3 E adesso Però Devo fare Così Apri Ho posato tutto Ho svuotato Tutto già Devo poi Chiedere a mattina Di potenziare Mezzani Poi Ecco Facciamo Insalata Per ora Facciamo così Poi in caso Sistemo i spazi Qua volevo lasciare Tipo La zona Carne Latte Uova Eccetera Tutto ciò che riguarda Queste cose Quindi questi qua Li prendo Ok Poi mettiamo Le insalate La foglia È già tagliata Questa La mettiamo qui Tanto non è una cosa Che mi serviva Pensavo di sì Ma Patate Cotte Mele Prendo io Personalmente Carote Le metto qui Cipolle Riso Allora Ho comprato Abbiamo tante cipolle Per un po' Mi pare che Non è regolamento Pane Ne abbiamo abbastanza E mi serve Questa Mette qui Ok Questa cassa È ordinata E ci sono Ops Sbagliato Ah I pomodori Ecco Vedi Sembrava Troppo semplice Non pensavo Che potessero Pescare le persone Ah Ti fa Le scoperte Qui invece Facciamo la zona carne Quindi Noi mettiamo La bistecca Vabbè Aspettivamente Questa qui è cotta Grazie mille Hamburger Mettiamo qui Manzo crudo Poi mi serve Pollo Questo qua Non credo Che lo usi Però Questo me lo devo Mettere qui Diciamo zona uova Mi servono le uova Anche Zona pesce Ok Notte Notte Signorina Mi dica Mi dica tutto Mi hai chiesto La carne Di capra No Pecora Pecora Non ce l'ho Guarda Avete Di capra Ah E vabbè Non fa niente Poi Gliela chiedo Poi Dico di Prendere un po' Zac 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 E c'è un po' Di animale In più Ah ok Vabbè Comunque glielo chiedo Perché mi servirebbe No Questo è quello Buggato Giusto Cosa Cosa Buono Ah sono molto meglio Questi cibi Perché Vero Costano un po' Di più Perché comunque Per collaborati Sono di più Però io li consiglio Se uno deve comprare Questi qua Devi Devi andare Devi essere un minatore O un cacciatore O un soldato Che sai che combatti Perché questi ti salvano la vita Soprattutto questo qui Questo qui fuori Infatti ora voglio mettere Uno simile Che Perché questo qua Ti dà 5 minuti Di benessere Quindi ti recuperi I cuori Anche se hai fame E in più Mi pare I primi Secondi 10-15 secondi La prima cura Ti fulla Senza Fermarsi È molto forte Sì sì Infatti Il problema L'unica cosa È che non abbiamo La mod Quella là Che ti dice Effettivamente Il bonus Che ti dà Eccetera Perché Quella sarebbe La dieta È una mod Che non vuole Nessuno Perché È un po' Rompiscatole Nelle cure Diciamo Ecco Però quello Ti farebbe capire meglio Quale cibo Effettivamente È più forte Aspetta Giocando all'altro Server zombie Non so se lo sapevi Abbiamo aperto Un altro server È l'altro server Sto facendo lì Il proprio chef Chef Mi occupo Dei campi Eccetera È lì Ho imparato proprio cibi A memoria Ed è fichissimo Perché impari un sacco di cose Ma anche se Vabbè Guarda che si gioca zombie Il zombie è sempre aperto 24 ore su 24 Solo la notte Lo chiudiamo Quando non c'è proprio nessuno Facciamo riposare il computer Va bene Quindi Quello è un server Proprio pubblico Aperto a tutti Potete giocare quando volete Ci sono i claim Quindi quando Pre scegli una zona alla base Anche se ne sei FK Nessuno può rubare Ok Poi è sempre Sì Abbiamo fatto anche Un piccolo regolamento Ma proprio piccolissimo Che spiega che ci sono i gruppi Facciamo anche diplomazia Alleanze Scambi Quindi se vuoi Entrare Potete entrare Ora è aperto E c'è gente che ci gioca Quindi Sempre lì Pensa lì Ci sono proprio altri player Che sono persone nuove Non conoscevano Osiris Sono lì che giocano E mi hanno conosciuto lì Sì È molto figo Sì infatti È molto figo Perché comunque è bello vedere Che hai due server E tutti e due vanno bene Anche se stiamo progettando Un terzo Che secondo me potrebbe Molto più interessarti Questo È un po' simile a questo Però immaginati Però immaginati Che ognuno può farsi il suo regno Con le persone Ognuno può fare villaggi Ognuno può dichiarare guerra Però dobbiamo Ci vogliono mesi Per farlo questo Anche perché Tanta gente Sì Oltre tanta gente Serve anche il fatto che Ci vuole un ottimo regolamento Rispetto a questi qua Ci vuole proprio Un regolamento Fatto bene Perché là stiamo parlando Proprio Se tu attacchi il mio villaggio E ti conquisto Cosa succede Quando puoi dichiarare guerra Di nuovo Quando puoi ribellarti Come funzionano Ogni tipo di governo Che può esserci Quindi praticamente Immaginati un Non un RP Proprio RPG Quindi proprio Molto immersivo E dove tutto funziona Letteralmente proprio medievale Cioè non ci sono armi da fuoco Non ci sono Cose volanti Proprio full medievale Ci sono Appunto i clan Regni Come puoi chiamare C'è il ladro Puoi fare anche il ladro Può essere uno che ruba Una grotta Con la base sua nascosta È figo Sì È molto figo Quello sarà aperto Sempre 24 su 24 Come l'altro Solo Siris Sarà A episodi Perché noi In realtà Il nostro obiettivo Era Doveva essere chiuso Poi abbiamo cambiato idea Abbiamo lasciato aperto Ma può essere Può essere dopo la 3.0 Potremmo chiudere il server Un mese di riposo Per tutti Però vedremo Perché chiudiamo la stagione La prima stagione Ma dobbiamo vedere Perché poi quando avremo 3 server Dobbiamo poi equilibrare bene Tutti i rapporti Perché se no va a finire Che diventa un casino Sia per noi Che anche per le persone Che ci giocano Se giocano a tutti i server Questa è la cosa figa Però ti dico Sarà molto immersivo Cioè proprio Prendi questo server Stile sempre uguale Però ancora molto più immersivo Ci sono proprio le mod Che si adattano Proprio per quello stile Perché questo è un RP Proprio Se possiamo dire Vanilla Molto più vanilla Perché qui Non hai obblighi Nel senso che Hai obblighi Per le regole Abbiamo scritto Ma se tu Prendi una bomba La metti sotto a combo E lo fai saltare in area Qui non hai claim Che ti bloccano Non ci sono regole Quello non diciamo Boh vabbè Comunque è un progetto grosso Se vuoi vedere Il video delle mod Che vorremmo usare Però non è sicuro Che usino Perché poi dobbiamo vedere Se funziona ovviamente Però se vuoi Dopo ti mando il trailer Oppure adesso E te lo vedi dopo Ma me lo guardo Me lo guardo Cosa non ho capito Te lo guardi tu Sì è nel È superare no? No è quello No no non è quello Il trailer È proprio della mod Vabbè va bene Sì me lo guardo Va bene Per questo dico Te lo mando Così poi Quando vuoi Te lo guardi tu Questo dicevo Va bene Vai Sì per esempio Ora aspetta che cerco E te lo mando Allora Ti dico che È un roguelike adventure Ah lo conosco Rad Cosa? La mod Rad Sì rad 2 però Sì sì Ah ok ok Prendi quello Però noi Vogliamo Proprio Modificarla anche In realtà Infatti Sinceramente Stavo pensando A un certo punto Di specializzarmi In javascript Volevo fare un corso Perché Si sono già Diplomati in informatico Ti specializzi in quello Magari anche In un mondo lavorativo Tanti sbocchi E in più Ci permetterebbe Proprio di toccare le mod Cioè non è che adesso Non lo faccio Infatti quella dei zombie Ho dovuto mettere In mano alcune mod Tramite javascript Ho dovuto modificare i valori Tipo del microfono Perché non funzionava Sono andato dentro Ho modificato tutto Io Boh Comunque niente Se vuoi entrare in quello dei zombie Per provare Anche solo per provare Provate È pubblico ragazzi Non c'è nessun obbligo Né altro Non è come questo Che per noi è importante Quindi Quindi pretendiamo Una presenza Perché per noi Sai è importante Questo server Sì ma è proprio bello Ah ieri Peccato Ah no Tu non sei più Ah no Sei tesoriere adesso Ieri ti sei perso Una bellissima battaglia È stata veramente epica Sì abbiamo fatto un evento Abbiamo fatto Migliorato Venerdì Venerdì Scusami Ah vabbè tranquillo Però era È stato bellissimo Perché c'era tipo Un forte Abbiamo costruito noi Un forte incompleto Sai quando ci sono i forti In costruzione E vabbè 12 più 12-13 persone E ci siamo visti brutta E ci sono entrati nel castello Sì abbiamo vinto E ti dico Avevo per un certo punto Ho detto Vederemo Dobbiamo cambiare storia Perché stiamo prendendo il cazzo Invece abbiamo vinto Però è stato divertente Però ti dico I prossimi eventi Vi piaceranno ancora di più Perché sono tutti Delle cose che non vi aspettereste Abbiamo C'è una persona che ci ha lavorato Settimane Su questo progetto Quindi Vi aspetteranno belle cose Dai Ti lascio Continuare il tuo lavoro Tranquillo Aspetta Dove ho mandato il link? Discord no? Telegram non ce l'ho sentito male Non lo so Ma che cazzo mi ha dato il video? No mi sa che non l'ho inviata nessuno Aspetta Oddio sono un coglione Ah no perché mi avevi detto Che già lo conoscevi giusto? Ah ok Eh sì sì Ecco qual era il vuoto Ciao 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 ragazzi Cosa hai fatto? Hai preso la barca alla fine? Te l'ha fatta E' questa qui Non le aveva messe le navi pronte? No Non le aveva messe Ah perché serve lo slime vero? Sì Ora l'ho procurato E' un piano Non serve il doglio Devo aspettare il vioto Ah perché lo slime Serve per le navi Ecco vuol bene Cercava Infatti la slime Vabbè tranquillo Io l'ho detto Come si è armato Mi sono rimasto pure altre 4 E potrei prendere un'altra Ma non è il mio mestiere Mi serveva uno Vabbè comunque tranquillo Hai fatto giusto Wolverine Non è venuto Vabbè comunque Mi avete lasciato lì Io ero solo lì A Blackwater Ah e venivi Non lo dicevi Ti venivamo Mi sono fatto Depprestare la barca Poi la devo portare Ah ok Ma quindi le slime erano per Wolverine? E per Yoda E scusami Perché mi avevano detto Che le navi servivano lo slime Che cazzo ho detto Per le corde Perché si fa con la Ah Con lo slime Ah vero Adesso Adesso Il guinzaglio Si fa anche con il nuovo mondo Con il nuovo ruolo Ci sono dei materiali Del mondo nuovo E in più Non c'è bisogno Per forza Della slime ragazzi C'è la paglia La paglia Sì La paglia Lo può fare Devi chiedere ai contadini Non c'è bisogno Dello slime Per forza Vabbè Oddio Forse è meglio Se te lo tieni per te Che sei cacciatore Se no non vedi Non dirlo agli altri Tiritelo per te Ti passerà Vabbè comunque niente Però si fa anche così Anche l'underground Lo slime O il guinzaglio può farlo Quindi tre ruoli Possono farla Occhio eh La farò girare la voce Ah comunque Vuoi essere il primo A assaggiare la ricetta Nuova Te la faccio assaggiare Gratis Perfetto Sarai il mio primo cliente Chi viene ora Al mio ristorante Ci sarà 50% sconto Sul nuovo piatto Allora Te lo faccio assaggiare A te Gratis Sarai l'unico Che lo mangerà gratis Quindi sentiti fortunato O che ti sento Bene con la voce Mi sembra in forma Cioè o ti senti ancora malato Qualche colpo di tosse Mi arriva Vabbè Importante che comunque Non stai di merda a merda Cioè che stai un po' meglio Non ho letto Che c'era Starpix Che ho letto Con un 38 dicembre Non ho letto Porca troia Che merda Allora non mi aspetto Chissà quanti clienti Però Nel dubbio Attualmente siamo 9 Eh sì Domani Ritorno alla vita normale In scuola eccetera Per molti Ci sta Ci sta Ci sta Allora Fammi del nuovo piatto Ok Quindi prima Devo fare questo Belli unghetto Il Allora Questo Devo fare un attimo I conti Su quello che spendo Si Si tratta Un piatto Di pesce Più Questo Ah sì Quanto Il riso cotto Dai Più bene Ah se ce l'hai Mi fai Un piacere Perché ogni volta Me li prendo Grazie Ah È vero C'è un nuovo riso Fritto L'avevo messo A cucinare Ma Mi ero dimenticata Ah io Il legno ce l'ho Più che altro Lo devo andare a prendermi Un po' Mi scorci Però effettivamente Per il legno Eh Per il legno Mi piacere un po' È meglio così Risparmi un po' Di farina Di andare avanti e indietro Tenga Grazie mille Perché altro Così ho i piatti Tanti Non devo andare Avanti e indietro Per di più Perché mi sa Che sono l'unico Ogni volta Ho piatti Ho bottiglia Che all'altra serve E le tiene Gli altri Prendo e butto Sì Mamma mia Che fastidio Allora Tieni guarda Visto che mi date il legno Quelle mi servono Mentre Tieni ti regalo anche Questo Allora È tempo che è tutto pronto E iniziamo La piatta Non che ultimamente Avevo visto Non servere Io non so come All'ho fatto Che Tipo tutti i siti Nella sedia E ti viene fame Vabbè Sì E per i ristoranti È buono Perché al posto Di Invece di mazzate Un'ottima volta Tutti i sedi Per tutti i fame E via Infatti sarebbe Molto meglio Cos'è il locale Non so Non so Ma Ecco qua Ma Ma C'è un albero Davanti Che copre La Allora Sei pronto Ecco il piatto Nuovo Assai Allora Che copre La Scritta fuori Non posso Ora si leva da solo Allora Tieni Anche tu Ti do Visto che il pesce è tuo Hai il permesso Di mangiarlo gratis Ti ho regalato anche questo Ma Che pesce vuoi Che pesce vuoi Eh Che pesce vuoi Eh Eh Già ce l'ho Grazie a me Ascoltato Non puoi fidare Eh Te l'ho mandata Si chiama Ma salmone Ma salmone che c'è Ho scordato qualcosa Dammi il piattino No Ne ho buttato un paio È soddittato Grazie Comunque hai visto Cosa da Da nutrimento Più tre No Perché hai ascoltato qualcosa Cosa Ogni Ogni pranzo Ah Vuoi proprio mangiare Che cazzo hai mangiato Che ragù Quelle cose belle Ah Che al passo Ah però sono andato Togli l'armatura Sono andato L'armatura Allora apprezzate Il nuovo piatto Eh Com'era Com'è Com'è Tanta roba Ha provato Non mi passi l'acqua Eh No Questa è la bottiglia aperta Voglio quella nuova No No Allora 10 monete Prezzo giusto Tieni Ah quindi è nati Che da il pesce In famiglia Sì ovvio Sempre Ah ragazzi Quindi buono Appianto nuovo Lo posso mettere in vendita Sì Adesso Fammi fare prima il negozio Che sennò dopo Devo aspettare Devo rinominare Questa chiave Essendo che Daniel In culo al mondo Incudine Siamo qua a terra Ecco dai Vedi Stai perdendo soldi Non so se mi vedi Che ring Lo chiamo Che babbaro Va bene La 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 Spadella L'ho fatta Posso chiudere Anzi Vabbè Invento Falegna Maria Oran Comunque Mi fa piacere Che mi dai il pesce Mi fa piacere Che mi dai tu il pesce Non pensavo Che fossi così Ma ci sono ancora pezzi di ghiaccio qua Diciamo che la pioggia aiuta molto Con le state Infatti 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 3 grade Ottimo Direi Ottimo Direi Ottimo Direi Ottimo Direi Qui vive Sasha Gray Ottimo Direi Ottimo Direi Allora Forse devo fare ingrandire Il mio Che babbaro Bre Lo spazio è quello che è Hai Dieci monete Anzi aspetta Aspetta Qualcuno ha comprato Sicuro Ah no Spero Ho svuotato Già E infatti Ho svuotato Dammi un attimo Dieci monete Grazie mille Ok Ho messo tutto Quello che vuole Allora Devo rifarli Allora Mi serve Pesce Mi serve Questo Mi serve Un po' Di cipolla A cosa Non ho capito La metto Nella La barca Poi la metto Nel molo E devo pagare La tassa Si si deve Ricordare Ovviamente Che Se ci dimentichiamo Noi Ci puoi anche Inculare Effettivamente Va bene Allora Poi Settimana prossima Poi la Incaccarsi Va Va Ok I Non ho capito Varia parla Con Luke Qui Vai 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 Va Lò Incaccarsi Vag 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 Va Vag 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 Grazie a tutti. La tempesta Osiris. Allora, mi metto qua, è il tempo che aspetto che si produce. Mamma mia. Vediamo se ci sono altri messaggi, non penso. Nessuno ha aperto nuove attività, nessuno ha fatto niente di speciale. Allora, mi metto qua. Allora, mi metto qua. Allora, mi metto qua. Questo l'ho fatto. Non abbiamo fatto le leggi nuove oggi. Cazzo, ci siamo dimenticati. Ma se siamo alle regole, siamo ancora qui. Le leggi, voglio dire. Dobbiamo approvare questa legge. E dobbiamo fare questa. Vabbè, la facciamo venerdì, dai. Siamo proprio dimenticati. E niente, capita dimenticarsi. Vale, mi vuoi tippare da dare che siamo a 3.000 blocchi di distanza. Vabbè. 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 La cosa che manca sta? Vabbè. 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 Guarda quante mi ha fatto. Vabbè. 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 Fatima di assaggiare anche Mesperta. Guarda che ci penso. Nutrimento. Mamma mia. o p allora mi sto un po' insallanendo come direbbe un grande uomo saggio ok è finito 8 pesci quindi mi serve un po' di cipolla 8 8 di questi mi serve 4 di questi se devo tagliarle e poi e poi mi servono i piatti mi servono 8 piatti adesso questo qui questo qui credo di aver sbagliato metodo 1,2,3,4,5 voilà ok questo andrà nelle riserve o abbiamo messo troppo cibo che mi farebbe strana come cosa ma intanto mettiamo un po' almeno sappiamo che ce l'abbiamo ok allora queste devono essere posate queste le patate qui le patate qui questo qui questo qui devo andare a posare queste due cose va bene tutto fatto il cibo c'è per tutti ho riempito tutto nessuno si può lamentare la falegnameria dovrei riempire un po' non mi tocca fare anche l'altro lato tutto sommato soldi ne abbiamo fatti quindi ci sta l'investimento adesso tocca la falegnameria mi pare che servono quadri sono proprio pochi quadri e questi vedo che mancano come cazzo si faceva a quadri carta e colorante colorante ce l'ho carta ce l'ho un po' è il momento di svuotare il negozio di mattina è negozio no i coloranti ce li è abbastanza no vabbè devo comprarli coloranti allora andiamo qua andiamo a fare facciamo così poi cassa ok poi questo lo posso posare questo mi serve il legno non mi serve il legno sta iniziando a finire ma in realtà ce l'ho abbastanza appena sono accorto accorto vado a fare proprio una scioppata enorme i colori li devo usare questi qua non mi servono questo è un colore mi serve la carta intanto facciamo una pittura facciamo quelle che abbiamo non ci arrivo però quindi devo svuotare il negozio di mattina prima di tutto il negozio di mattina svuotiamo il negozio proprio di mattina preciso ancora il negozio di mattina non so se mi si abbinano i coloranti per adesso in realtà è marrone mi serve marrone perché lo usate per i negozi anche se ci sono gli altri colori ma quello più richiesto è il marrone andiamo da mattina quando ho detto svuotare il negozio di mattina stavo scherzando non pensavo che è davvero lo svuoto e mattina serve più carta devi mettere 300-400 sac e poi la canna da zucchero scusami carta a parte martina se vuoi la carta ti consiglio di andarla a comprare a blackwater ma neanche scogna non so se mi stai sentendo però perché qui non c'è e poi lo vende a un prezzo un po' altino da blackwater risparmio 10 monete e oggi salve sei occupato? no però vieni con me intanto sto facendo una cosa e volevo portarla a casa mia ah l'ha finita la voglio vedere ora vengo allora aspetta che faccio una cosa però io lo dico se mi spederebbe un ponte perché casa mia essendo che è l'altro lato di un lago devo fare il giro lungo fare in mezzo gli alberi ed è più stressante diciamo poi lo faccio vedere dov'è e dove vorrei fare il ponte e mi dici che cosa si può fare eh signorino qua lo stress no no eh stress nel senso che deve passare in mezzo a tutti gli alberi ed è complicato allora ho quasi finito poso queste due cose ci sono andiamo dobbiamo andare comunque verso la tua proprietà andiamo a messi i cartelli comunque ok ho finito per macchiare all'obbasso vado a posare i soldi ecco io posso decorazioni e qualsiasi cosa decorazioni cerco e dovresti chiedere sempre interior design perché vendo principalmente più utilità ecco dovrei farlo più ampio lo so però ho sbagliato mi ero dimenticato che la mia casa fosse qui ecco eccomi capitano andiamo a vederla a sua casa ma sai che con queste strade quasi quasi viene la voglia di iniziare a provarci veicoli si è vero però non credo che sia conveniente quello non costruisce le navi che sono facili figurati le macchine che costano è un'attività è un'attività che può aprire gabrie secondo me il meccanico carpentiere visto che Wolverine ha dieci anni per fare le cose Wolverine ha tre lavori esploratore esploratore del nether ma quant'è l'ingegnere ma effettivamente adesso che fa l'ingegnere non so se riesce a stare dietro questo dipende da lui porca puttana chi sei? mi spero mi pare tutto struttivo da qui vediamo eccoci qua oh vieni che bella un mini locale con una stile per i bambini ah la magnifica cantina bella bella molto bella e vabbè ci sta del sogro pure si è fatto i fornelli fichissimo questo molto bello la stufa invece hai questo tu? attualmente si la stufa la stufa allora vedi premia si allora tu hai la jelly se tu vai lì scrivi stufa proprio ti esce ma io sono in inglese eh? sono in inglese allora ti spiego come si fa ok servono 5 pezzi di pietra come se stessi facendo la nave al centro della nave la fornace e soprattutto un lingotto di ferro la fornace ti è ah no ti consiglio la stufa che è questo qua perché schiatti inverno ah questo qui è che c'è senza letto eh figo la casetta è modesta bella comunque alla fine non ti sei preso 10.000 di spazio ah ma l'hai fatto per il camino che è vabbè questo lo puoi lasciare secondo me e proprio volendo poteva diventare un'altra stanza aspetta fammi sembra quasi io vuoi essere un attimo io ho appena una poza secondo me sopra devi fare proprio mettere i campfire per fare figo perché non arriva ma lì non è completo allora no c'è da terra no c'è anche un buco ho visto sopra un buco c'è un buco arrivo subito non posso permettere che ci sia un buco eh minchia bellissimo però comunque veramente figa la cosa bella è che è stata pasturita fredda e al cielo proprio vabbè comunque è stato meglio per nuke che almeno ha lavorato in una zona più possibile da lavorare io proprio si è isolato vabbè ora che c'è estate a breve è arrivato uno quindi si è coperto per le costruzioni per un po' almeno due o tre sessioni cosa un ponticello tipo che attraversa quel fiumiciatto si vabbè ma basta devi chiedere al barone è compito suo non è tuo compito devi spendere a parte è una vera a parte conviene perché si ci sta un ponticello lì e quella lì si deve ancora devo dire eh quello era un ricordo però si forse è arrivato il momento di dire a D al ricordo scogna a piangere mi sembra che mi avevi detto pure chi era stato e che tipo era stato bannato che? per darsi quello lì quello che aveva lo strumento no? non è mai mica è stato bannato guarda c'era uno zingano questo è quello forte ah comunque il server di zombie è stato resettato l'ho visto era un po' troppo corrottino quello ah ma è giusto era in live tu hai visto il nuovo visto visto ma cosa volete domolire io puoi esplodere tutto no la vecchia casa qui il ricordo della grande storia allora la storia di quella casa all'inizio era la casa di martina scogna solo che all'inizio la città era piccolissima e loro erano molto lontani da noi per dirti secondo il nostro punto di vista talmente piccola all'inizio che dove erano noi la città era piccola e loro si erano messi qui e ti giuro per noi era lontanissimo per dirti quanto era piccolino prima che entra la vita perché prima era tutto verso la periferia diciamo i primi costruzioni ora si è alloviato del buonsenso che si era lì vabbè ora ci siamo espansi di qui quindi ci stava la casa praticamente quella casa è centenaria perché prima di tutto ci sono state tre storie all'interno la prima è stata l'omicidio di scogna si presumono che poi non è stato vero l'omicidio secondo lo spaccio di droga ci ha fatto scoprire che c'era uno spaccio di droga qua sotto sotto casa tua grazie a quello che l'abbiamo scoperto che storia lunga non so se c'è ancora andiamo a vedere non è stato detto niente c'erano le torce aspetta aspetta vediamo no l'hanno tolta mi sa mi sa che l'ha tolta il barone di Asdrubale perché era sua cosa mi hai detto ti devo chiedere una cosa è difficile e poi la terza cosa c'è stata la caccia a tesoro per la scoperta dei pirati e c'era lì una prova sì è questa buona secondo me questo è carino Massimo sai dove ti conviene mettere in camera secondo me secondo me ti conviene tipo in camera tipo qui ci sta aspetta infatti mi sa che occupa due blocchi aspetta però qui è boh siamo fuori ma scusa non è meglio tipo vicino proprio quest'area qui nessuno questa qua ti consiglio quando la devi attivare ti consiglio di farlo a fine autunno non prima devi mettere acqua e lava e poi premo il pulsante e poi no 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 quelle sono per le particelle fighe che vede intorno nel momento che lo fai rimane attivo a lungo perché è molto duraturo rispetto a una fornace eccetera dura veramente un casino perfetto perfetto poi vabbè sopra ti ho detto ti conviene mettere questi campfire perché ovviamente il fumo non arriva fino allì sopra giustamente la casa è altissima va bene ma cercherò di fare un cammino per bellezza tra l'altro vabbè tanto è finita no questa casa immagino sì sì io che cosa ti manca da fare io adesso devo finire la struttura per gli otto e per wolverine quella della carpentiera giusto sì però è più che altro che ancora un po' c'è c'è un po' di roba frio quante strutture hai da fare tu allora devo fare appunto questa qui l'attività per appunto Simone poi ho una roba che mi hanno anche questo altra non so d'indra e altri poi ho la casa di aene e poi c'è un'attività di wolverine quindi 4-5 strutture sì sì c'è un po' di roba ah meglio meglio anche perché appena se in caso non avete lavoro vi do un grande consiglio venite subito al comune abbiamo tipo 12-13 cose da costruire perfetto il lavoro non manca bravo praticamente ma fai un muretto di pietra sì posso fare un attimo forse bene allora Joe io per ora vi lascio a voi due vado alla mia moglie che mi ha chiesto un favore va bene arrivederci arrivederci bella casa comunque complimenti strafiga molto particolare rustica mi piace a me piacciono le case così piccole modeste ad esempio la casa di scogna a me non piace ma non per bellezza nel senso le case troppo grandi su minecraft mi creano un po' bravi ti manca il cappello ed educo che avete avuto una missione veramente arda ma hai preso la roba poi e abbiamo anche dei la melatore incantata vabbè aspetta andanati andanati a casa di scogna è perfetta però è di scogna la design è perfetta per i miei gusti ma anche la mia sarebbe perfetta semplicemente è che non hai gli interni ma chi è che ho pronotato gli interni? guarda è Shubek guarda è proprio Shubek ma quando vedi Dain e dici che abbiamo svuotato tutto eh guarda è diventato ricco io non so come sia possibile che Dain non ha mai ferro in vendita mai e pizza dice che ne stra pieno non può vendere come acqua allora fra io ho fatto una missione no? eh si è un regalo aperto in me stacca vai emozione per lo stato per lo stato e che cazzo me lo devo fare? ah ce lo vende a Dain ah io vi consiglio di conservarlo la TNT perché nella 3.0 ci saranno le bombe a mano aspetta vedi questa? è una passione strana non so che cazzo bui vi la buona cazzi io ho la birra ah comunque Daniel le TNT cercate di conservarle perché potremmo fare le bombe a mano nella prossima patch sono serio e possiamo lanciare le bombe a mano addosso ai nemici però sono molto non sono fuori media in valianza questo c'è anche là ciao ragazzi dove stai trovo c'è fra oh oh dove stai trovo oh cazzo tu non deve finire oh vale vuoi venire il nuovo dove cazzo guardate pare i palli Daniel mi ha sentito guardate mamma mia sempre scamare questo questo è il miglior regalo Daniel vuoi 42 pezzi di ferro per 20 monete di rana? oh eh si 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 brava mettili in vendita perché guarda l'alto dei negozi sono vuoti e pieni di soldi vale guarda tu hai il sistema oh figo bellissimi questi stemmi li puoi usare per i futuri clan eh vale aspetta ti ho trovato un bioma c'è un villaggio nella neve con una torre eh si eh qua vicino eh si ma vorresti si ma metti più roba fra mai sempre vuoto qua mamma se poi non la zinga io sono il mio hero sono il mio hero sono qua a casa dove sei ma dove sei tu al muoto pescheria proprietà di donut arrivo arrivo oh allora io venerdì non so se ci sono perché è il turno di pomeriggio e sono dalle 2 alle 10 e quindi forse per l'attenzione non ci sono e quindi perché il tempo che torniamo sono dalle 10 e mezza e quindi dato che si fa la riunione non mi puoi dire di cosa si parla e ti dico che sono a favore oppure no soprattutto segni e poi in base ai voti decidete ah va bene non so cosa propongono vabbè comunque è a posto si di che parla la riunione di venerdì e che cazzo ne so solo modificare le nuove leggi le vecchie leggi e non posso e poi sul foglio cazzo non mi ricordo manco io dal foglio lo vede vabbè devo ricordare di te sì venerdì decidiamo ma sono modificare non è che sono da riscrivere da cambiare quindi non c'è bisogno di approvazione no l'approvazione non c'entra semplicemente riscrivere fatte bene ah finalmente direi è una barrella hai una barrella barra ah questa qua mi poteva ricevere ho chiuso ho chiuso ormai non fa niente cosa hai chiuso io gioco e che c'hai andato ho capito nate che c'hai andato i amairo ti sei fatto a tre pene inutilmente perché mica ce l'ho qui hai visto i nuovi piatti che vendo nel mio negozio no non il negozio fa legna maria il negozio di mangiare vieni vieni quanti te ne servono padrone padrone oh quanti te ne sei uno è il padrone devi senta la voce ammianzando a te ma quanti siamo rimasti ah ma pochi siamo rimasti oh dai stacchiamo un po' prima allora domani si torna alla vita normale che brutto mi spiace ragazzi mi spiace per voi vabbè rimanere uguale a pezzo a pezzo In Ghiadania ha fatto i viaggi In giro per il mondo Ah ti hai un libro a livello 3 protezione Ehm se vuoi rientro e controllo Eh vabbè ma stiamo chiudendo Oh vabbè non per niente rientra Sto rientrando Che è combinato Carla Scogna comunque lo so che quello è Ehm Un ricordo però prima o poi I ricordi verranno cancellati col tempo Le cose vecchie Cadono a pezzi E non si possono ristrutturare più Oh Massimo Per ricostruire un edificio Dimmi Che combinato? No Un attimo Un attimo stara Mettiti in variativa un attimo Perchè? Prendi stara dove spi E mettili qua Vedi che cosa riesce a te Ti metti prima con la scarsa Poi con la buona o la scarsa Ma ricordi mettiti Protezione a questo Protezione 3 Più protezione 4 Un'altra Protezione 3 spine Costa troppo Giusto si è scritto per te Costa 48 Ah ok A me no Ti metti la farà Ma non ce la fa mai Per i livelli Ma ti cambiene un'irla Secondo me Sminchi bonus C'è un attimo C'è un A che è fortissimo E' proprio un attimo Ma cosa? E' un Dangle event E' un Dangle event Ma che si pazza Non ce la fa mai Quando ti metti il livello impossibile Questa dire Protezione delle esplosioni Ma questa è fortissima Porca Perché la vuoi riluminare? No Insieme No Però Mi devi fare Protezione La devi mettere Su quel lato E stare L'esplosione E queste cose così Ma costa troppo Perché vuol dire che Non si può fare Ma Sai che è una cosa Che si fa solo In credito Dimmi Inferno di renda Sapere come funziona Questo Questo Mi devo mettere questo Eh? Deve mettere la chiave Dentro di questo Ma quello E' semplicemente Una chiave Che apre più cassa E quella singola E' una chiave singola Ah no Le devo ficcare Qui dentro No Quella chiave Praticamente Questa qua Può ottenere 8 cassa All'incic Tra 6 e 8 Non mi ricordo E con questo Che faccio Non si può fare Non può farlo Vale Non può mettere Protezione E protezione Esplosione Insieme Ah Ecco perché Perciò questa qui La tolgo La premo con questo qui E posso fare questo Sì Praticamente quella là Magari la metti Nella ender chest La tieni per sicurezza Ma Teoricamente Se devi fare una chiave Con tutte le casse Ti conviene avere Due k-ring Una di riserva Che hai le 8 casse E questa qua Che hai le 8 casse Che ti tieni addosso A meno Se la perdi In caso Non ce l'hai Ah vabbè Grazie mille Vabbè Cava Che ha giustamente Costa troppo Ma che cazzo è sta roba C'è da 4 livelli Ma è su pazzo Ma che cazzo C'è da Ma a parte Non posso fare Che stai dicendo Ma non posso La città Metto in gradi Ok gli altri Lo fanno Allora anche gli altri Poi me lo dicono Ma figura Tu sei scello Anche raga Possiamo chiudere Siamo rimasti in 3 Ok vabbè Fine serata Giustamente Ti giuro Oggi pensavo Che Veniva molto meno gente Invece siamo stati 17-18 Abbastanza Che comunque È l'ultimo giorno Che la gente è libera No ma non pensi che voleva quello Non pensi che voleva ripararlo Niente Ho fatto ragazzi Io inizio a chiudere Saluto agli altri due Buonanotte raga Buonanotte Che stacco qui E tra poco Il server Paga me ce l'hai i livelli Quanti cazzo di livelli hai? Ok È stata una sessione interessante Meno male che abbiamo fatto Meno male che abbiamo fatto Tutto Oggi è più tranquillo Abbiamo diviso l'evento un giorno Facciamo l'evento un giorno Perché c'è troppa roba da seguire adesso Ma veramente troppa Starci dietro non è facile Boh a posto E niente Aspettiamo il prossimo episodio Comunque è bello Siamo a Oh siamo ritornati Siamo a 48 episodi Porca puttana Buonasera Buonasera Quale 30 vale Faccio in poco Vale i zombie stanno accesi Sì raga Però quello dei zombie è sempre acceso Ho detto Non so se passare un po' di tempo Andare su Valorant Sinceramente Carlo sta ancora nel server Mi smuto Vedo se si smuta Ma glielo chiedo Aspett Ho entrato giusto Sull'altro di zoom Però devo un attimo Riavviare la live ragazzi Avete pazienza Devo staccare il server Riavviare la live Un attimo Che stacco il server Da là Da Osiris Subito ritorno Boh se vuoi Valorant Scogna Però entro un attimo Due minuti nell'altro server Vai vai Gioche Grazie Grazie